Per cento giorni chiusi in una casa Dieci persone più conosciute d'Italia Gli hai viste 24 ore su 24 in tv Mi è venuta l'orchite! Adesso potrai vederle insieme, dal vivo Ah, e finalmente prenderli a calcagnate nelle gengive E dirgli che sono delle grandi Pesta di minchia Grazie a tutti!